Ed eccoci qui tornati, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Dragon Ball Xenoverse 2 Come avevo preannunciato, oggi inizieremo le nuove missioni parallele Detto questo, prima di iniziare come sempre, se volete supportarmi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace Commentate, condividete e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati A breve inizieremo la missione numero 147, la ricerca di Caulifla Non mi sono spoilerato niente, per cui non so quali siano le condizioni di vittoria, ma lo andremo a scoprire a breve Mi raccomando carichi ragazzi, segniamo subito il nostro patroller E poi, dato che stiamo giocando le nuove missioni del nuovo DLC, io direi di riportarci i nuovi personaggi La mia scelta rigate su Jiren, o Jiren come volete, massima potenza E Kale, dato che la missione si chiama la ricerca di Caulifla Ah bene, abbiamo Caulifla alleata, molto bene Eh sì, siamo in 5 Saiyan Ricordiamoci che Kale e Caulifla i 5 Saiyan se li possono procurare molto facilmente Dato che nel loro universo, ovvero il setto, esiste ancora il Peneda Vegeta che li si chiama Peneda Sadal Let's go Allora, mi chiamo i nostri avversari, sono Vans e il bambino e sono i conti Boden Sì, non è spero, vi vorrei fare una bocca, non l'ho fatta, non fa niente Ma che vuoi fare, Trance? In realtà mi sta a meno Dove affido il vigore? Mortacci, tu aspettate un attimo, ragazzi Iniziamo subito Adesso voglio farvi vedere una cosa se ci riesco Eh ma quanta cattiveria Tra l'altro comunque l'abbiamo preso insieme Sia lei, sia io E Trance ce lo siamo tolto dalle palle Poi, eh, povero Trance Qua c'è Gothelmo, ragazzi Aspettate un attimo Perfetto Gosto del vigore un'altra volta, massimo Ok, andiamo di qua Piccolo Gon E poi Non capisco chi mi ha colpito Mi sa Gon da dietro Io voglio sconfiggere prima Piccolo Perché voglio vedere se Gon si trasforma Dato che in altri missili parallele È successo Proprio per esistere anche qua Eh, però Kale Sto pensando io a Junior Non sia piccolo Chiamo un numero piccolo Aspettate Adesso voglio sconfiggerelo così Voglio farvi vedere questa combo Sì ci riesco Ovvero la sudostale che indicama La furia divina Purificazione Vabbè Ormai Non ha senso Ormai l'abbiamo sconfiggere Vabbè Ve la faccio vedere su altri avversari Ma c'è anche Aspetta un po' Vigel Aspetta un attimo Non è back on Perché Se va back on Normale che mette in difficoltà Girenne massima potenza Ma quando? Ma quando mai? Eh infatti lo sapevo Non lo sono immaginato Perfetto Aspetta di utilizzarlo Almeno Essere vulnerabile Molto bene Ve ne faccio un'altra Perfetto Perfetto Eh sì vabbè Però se me lo levano Questa è la mossa di topo Molto bene C'è un altro scenario Però dobbiamo Secondo me Dobbiamo stare attenti A Caulifra Dobbiamo proteggerla Secondo me Per sbloccare il finale La vedo un po' Troppo vulnerabile Cioè alla fine C'erano Videl Junior E Gon Cioè Gon Forma base Dopo si è trasformato Ok Adesso è già Comunque la sfida E' più difficile E' più difficile Eh no Ah ok ok La faccio Sperdizzo Tanto non c'è il vigore E chi c'è? Ah c'è pure Goku Stiamo attenti Molto bene Vediamo un po' Se possiamo usare Tutte e due le supermars Eh Non immaginavo Che tanto Ah ok L'ho preso Ok dove è andato Vai Ma non è che dovevamo colpire Prima Vegeta Cioè la serie di vita Goku Boh Vabbè Vediamo un po' Ah 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 Chi non è Ah 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 Di questi Cioè Ah Attenzione C'è Kail Ah Cioè Oh Ah Oh E' il terzo! Non è che il terzo è molto utile! Fai... Non c'è nessuno è una persona! Non c'è! Ma che cosa è che?! E' difficile! Oh... E' molto felice! Siamo anche se non riesco a fare una cosa! E' un po' troppo! Ma che cosa? Ma che cosa? Sto prendendo un cazzo. Ah, comunque l'ho presa. Perché ho rispondito con la supermassa? Perché voglio vedere se riesco a sbloccare la sua masso suprema. Ricordiamo che Kayle è la controparte di Broly, eh? A parte che l'avevo già detto anche nello scorso video. Però... L'abbiamo sbloccata comunque. Sì, abbiamo sbloccato il finale. Sì, l'abbiamo sbloccato. E ritrasformiamoci. Ed ecco a voi. Kefla. La funzione tra Kayle è Kaulifla. Vraimenti è bella. Sì, però così non ci capisco il cazzo. Aspetta, il massimo. Carissima Kayle. L'ho presa. Adesso vi faccio anche questa. Eh no. La stanza è separata. L'importante è che diciamo a sconfiggerla con la supermassa per avere più... come più fortuna a sbloccare... le supreme. Concluso le suprema. Vediamo il grado. Paquettua! A... Annesa... Scusate. Bene, grado Z, vediamo se abbiamo sbloccato qualcosa, abiti di caolifla, parrucca di caolifla, illustrazioni 170 e 91, attacco speciale, distruzione doppia, niente attacco supremo, peccato, però comunque abbiamo preso il grado Z, quindi ho portato a termine il tutorial. Grazie a tutti.